Se ti serve un gruppo per giocare con qualcuno, fare glitch, scambiare o fare anche raduni ti ricordo di entrare nel mio gruppo Telegram, è il più grande in Italia, link in descrizione Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come vi ho detto al titolo finalmente dopo secoli nuovo glitch in solo, è sempre col Doomfab ma quello vecchio l'hanno patchato quindi questa qui è una versione nuova, è un po' più facile però comunque è fattibile ve lo posso assicurare, quindi i requisiti li trovate nella descrizione, prima cosa da fare entrare all'interno del centro operativo mobile e prendere il veicolo che vogliamo duplicare per questi glitch vi consiglio di duplicare i veicoli di Bennis o Arena Warp che sono quelli che danno di più, leggete la descrizione per più info mi raccomando, quindi prendete il veicolo che volete duplicare e lo piazzate qui, scendete lasciando lo sportello aperto come si fa? Semplicemente quando scendete iniziate a correre così appunto rimane lo sportello aperto, una volta che avete messo il veicolo così io vi consiglio di cambiarvi lo stile quindi che ne so andando su stile, andando su completo semplicemente ve lo cambiate una volta in modo che in basso a sinistra, cioè scusate in basso a destra vi esca il caricamento giallo, una volta che ce l'avete potete tranquillamente uscire dal vostro bunker una volta fuori dal bunker dovrete semplicemente diventare CEO Secure Reserve tramite il menu interazione e richiedere un buzzard, mi raccomando non richiedete veicoli personali altrimenti il glitch non vi riuscirà quindi potete utilizzare solamente i veicoli del CEO per spostarvi in alternativa se sapete fare il glitch del teletrasporto con le attività blu potete fare tranquillamente quello ma comunque potete utilizzare tranquillamente un buzzard una volta che ce l'avete andate al vostro nightclub mi raccomando questo glitch funziona solamente con l'entrata di servizio del nightclub non con altri edifici quindi è inutile che provate quindi semplicemente una volta arrivati al nightclub entrate all'interno dell'entrata di servizio del nightclub facendo entra nel tuo nightclub una volta che sarete dentro troverete il vostro dune fav esattamente qui adesso ragazzi c'è un piccolo timing da fare ma non è neanche difficilissimo se lo fate all'interno dell'entrata di servizio del night quindi dovrete semplicemente entrare all'interno del vostro dune fav attendere qualche secondo che il motore si accenda una volta che si sarà acceso il motore vi spiego cosa dovete fare dovrete semplicemente tenere premuto freccia destra poi rilasciarlo e poi premere subito dopo r2 ovvero il tasto per accelerarlo in altre parole dovrete tenere premuto freccia destra e praticamente mezzo secondo dopo premere r2 se prima che ragazzi il vostro personaggio fa l'animazione il vostro veicolo esce vi fa il caricamento nero vi è riuscito se come vedete in questo caso vi butta nella torretta riprovate dovete ragazzi provarlo per capire perché a parole diciamo che è un po strano da spiegare quindi adesso vi faccio vedere tengo premuto freccia destra subito dopo r2 dopo mezzo secondo se ragazzi il personaggio si sposta nella torretta ci riprovo è normale le prime volte magari 4 5 volte ci dovrete provare il vantaggio è che non dovete ricominciare da capo quindi come vedete basta ritornare qui al posto del guidatore tengo premuto freccia destra poi premo r2 subito dopo non mi riesce ritorno nel posto da guidatore quindi semplicemente adesso ci riproviamo un'altra volta semplicemente tengo premuto freccia destra mezzo secondo dopo premo r2 una volta e come vedete niente non mi riesce neanche questa volta questi qua ragazzi sono i tentativi reali che ho fatto senza tagli adesso ve lo rallento entro nel doom fav tengo premuto freccia destra appena ho tenuto premuto freccia destra mezzo secondo dopo premo una volta r2 mi farà il caricamento nero durante il caricamento nero dovrò tenere premuto solamente freccia destra per esattamente 3 secondi quindi mi raccomando contate 1 2 e 3 e poi rilasciate freccia destra e non toccate niente respawnerete così ragazzi e poi il doom fav sparirà se vi fa così il glitch vi è riuscito in caso contrario se spawnate con il doom fav dovrete ricominciare da capo quindi rimettendo l'auto fuori dal bunker adesso mi è riuscito una volta che vi sarà riuscito tornate al vostro bunker sempre tramite il buzzard se vi si toglie il buzzard lo richiamate una volta arrivati nel bunker come vedete troverete il veicolo che stavate duplicando esattamente qui semplicemente ci salite sopra guardate bene la targa che cambierà e adesso semplicemente dovrete andare a salvare la copia una volta ragazzi che l'avete salvata semplicemente potete ripetere il glitch adesso vi farò vedere come come vedete ragazzi la clip dura rallentata 4 minuti e qualcosa quindi per farvi vedere che a me è riuscito praticamente il primo tentativo comunque per ripetere con il glitch non potete ripetere in maniera massiva dovrete prima di tutto tornare alla vostra entrata di servizio del nightclub chiamare il meccanico e richiedere un altro doom fav che avete in qualsiasi altro garage tanti doom fav quante duplicazioni volete fare quindi come vedete vado a richiedere questo doom fav che avevo nel b2 del nightclub e dovrete fare obbligatoriamente questo step non potete comprare un altro doom fav nell'entrata di servizio perché se sostituite la issi perdete il veicolo duplicato lo andate a mettere nell'entrata accettate il messaggio e adesso ragazzi il veicolo che avete appena duplicato sarà al posto diciamo di dove avete chiamato il doom fav esattamente adesso come vedete dal video una volta che siete col doom fav all'interno dell'entrata di servizio potete tornare al vostro bunker e ricominciare con il glitch mi raccomando non sostituite il veicolo comprandolo perché sennò perdete il veicolo quindi adesso torniamo al bunker come vedete riesco con l'auto una volta che sono all'interno del bunker con l'auto la parcheggio premo triangolo scendo corro lascio lo sportello aperto una volta che l'ho lasciato aperto semplicemente ragazzi esco dal bunker ritorno al garage del nightclub e ripeto quindi ragazzi piccole precisazioni per il glitch allora innanzitutto non potete utilizzare come vi ho detto altri garage come vedete io qui stavo provando con il b2 del nightclub e non riesce perché non so perché il veicolo non esce per nessun motivo anche accelerando normalmente potete provare con la sala giochi io onestamente non ho provato però con base operativa nightclub garage normali non funziona quindi solamente con l'entrata di servizio duplicate i veicoli di beni su arena war perché avrete una spesa iniziale di 800.000 dollari la issi la vendete a 1.800.000 quindi ci andrete a guadagnare 1.000.000 di dollari se duplicate ragazzi altri veicoli ci andate a perdere quindi mi raccomando non fate la cavolata di duplicare altri veicoli spero che questo video vi sia stato utile se siete nuovi iscrivetevi al canale per i video di glitch e contenuti su GIT online e noi ci vediamo al prossimo video